Ieri in Consiglio Comunale il centrodestra le ha chiesto di prendere una posizione netta nei confronti dell'assessore Cocco che continua a non pubblicare i suoi redditi 2015. Ha parlato con l'assessore? Non è che ho più bisogno di parlare, mi sono espresso con chiarezza, aspettiamo quello che dice l'ANAC. Poi posso dire una volta ogni tanto che non credo che questa legge sia così corretta, cioè che un amministratore pubblico debba pubblicare i suoi redditi prima di diventare amministratore pubblico, però la legge c'è, aspettiamo quello che dice l'ANAC, io non ho nient'altro da aggiungere.